Buona sera a tutti e bentornati in questo nuovo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare like e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati. Allora quindi è stata confermata la collata d'aria gelida appunto chiamata Burian, o Buran come preferite dire, che appunto comincerà a raffolire dal 10 febbraio in poi. Per chi non lo sapesse, il Burian è un vento gelido che durante la stagione invernale soffia sulle lande siberiane e le steppe. Solicamente è diretto verso la Russia, però in questo caso è diretto anche verso l'Italia a causa di un distaccamento. Ovviamente vi ricordo che gli inverni più freddi sono stati caratterizzati dal Burian, inverni come il 96, il 2006, il 2012 e il 2018. Come si vede dalla mappa, dalla giornata del 10 comincerà ad avvicinarsi da nord, appunto l'area gelida, che nella notte tra il 10 e l'11 valcherà le Alpi e si avranno i primi refoli freddi soprattutto al nord. Poi durante la giornata dell'11 si estenderà verso sud e entro la fine della giornata dell'11 avrà colpito tutto il nord e gran parte anche del centro. Successivamente si estenderà ancora una volta verso sud e colpirà gran parte del sud Italia, ad eccezione della Sardegna e della Sicilia, come si vede bene dalla mappa. Ma ecco che talvolta trasladerà anche leggermente verso ovest e andrà a colpire totalmente anche la Sardegna e parte del nord ovest della Sicilia. Come si può vedere il 14 febbraio sarà una tra le giornate più fredde con estese gelate al nord Italia anche al centro, con temperature che scenderanno tra i 5 e i 7 gradi sotto il zero in tutta la pianura padana, con punte anche di 13-14 sotto il zero in città come Bolsano e Belluno, dove in quest'ultimo si avranno veramente delle giornate completamente sotto il zero. Ma il freddo non mancherà nemmeno al centro, visto che si prevedono fino a 3 gradi sotto il zero, 3-4 gradi sotto il zero nella città di Roma. E attenzione perché nel settore nord di Roma si potrebbero toccare anche i 5-6 gradi sotto il zero, quindi temperature veramente molto molto freddo per essere Roma. Ma il genere non mancherà nemmeno al sud, visto che si prevedono fino a un grado di 2 sotto il zero anche a Napoli, intorno a un grado a Bari e Taranto, intorno agli zero gradi anche sulle coste in Calabria. In Sicilia e Sardegna comunque temperature comprese minime tra i 3 e i 7 gradi. Poi dalla giornata del 15 il freddo diminuirà un pochino al nord Italia, comunque ci saranno anomalie termiche ancora abbastanza negative. Poi per la giornata del 16 si avranno correnti che spingeranno da oeste che appunto cominceranno a far traslare verso oeste questa ondata di gelo. E probabilmente entro il 17 febbraio verrà completamente cancellata su gran parte del centro e del sud, con ancora dominio però sul nord Italia. Ma durerà ben poco, infatti per la giornata del 18 verrà cancellata anche la nord Italia con qualche reflux freddo, ancora soprattutto al nord-est. In particolare tra Alto Veneto, Trentino e Friuli e Venezia Giulia. Parola Veneto, Trentino e Friuli e Venezia. Acostante rencontrio eは��alonica. Grazie a tutti.